Fermatevi bastanti, sento le vibrazioni. Tu tieni la crichetonide dentro alla borsa. Mio marito mi tradisce. Questa è una cosa molto grave per lei? È certo che è grave. Scusa, ma non è facile uscire così. E poi c'è Peppino. Ma al finale sei veramente Superman. Eh sì, sono Superman. Ma tu non puoi aiutare mia mamma che non si sente mai bene. Eh no, io quel potere là non lo tengo. Il padre lavora, la mamma sta sempre dentro al letto. Ma allora scusate, questo bambino a chi lo diamo? Io non ce lo posso badare, perché io studio. Però Titino e Salvatore non devono che fa. Ma è strano che Zia Salvatore strucca. Che pì, strano e bello. È la moda. Ma papà, ma tu non vieni. No, è per il bambino. Senti, non lo fate scendere finché torno, eh. Devo fare qualcosa, lo devo fare sfagare a quel bambino. Papà! Lo vuoi fare ad un giro? Io devo essere libera di scegliere. Per scegliere devo provare. Ma questo percorso individuale tuo, precisamente, quanto è diverso dal percorso di una zoccola? Scusate! Io non è che posso correre sempre appresso a te. La vita è più forte della morte. È caduto. Quello si è buttato. Papà, è partita. Allora, anche questa missione è compiuta. Adesso vado. Ho un appuntamento con Tor. Ho un appuntamento con Tor. Ho un appuntamento con Tor. Uno adulto.